Continua la programmazione in casa. Sandro Abate Avellino. All'inizio di luglio è previsto l'annuncio del nuovo tecnico Cicci Angelini. Sarà una Sandro Abate totalmente rinnovata. Resteranno in organico Tiago Perez e Dalcin. Si sta cercando di trattenere Danicic che ha avuto poco spazio anche per via degli infortuni e Fante Sele. L'Italo-Brasiliano vuole restare. La società vorrebbe trattenerlo ma al momento c'è distanza tra domande e offerta da dover limare. In occasione di Sport Days a fare il punto è il market manager Gianni Battista. La società è già al lavoro per strutturare al meglio sia il profilo societario, quindi per rinforzare lo staff e certamente per fare una squadra che punti di nuovo a, come dicevo prima, a raggiungere, cercare di raggiungere i play-off e cercare questa volta di andare più avanti di quello che è successo quest'anno che siamo usciti ai quartieri di finale. È tutto work in progress, quindi vedremo aggiornamenti dai primi di luglio e comincerete a vedere e a sondare qualche nuova trattativa. Diciamo che sui rimuovi l'hai già detto tu, siamo avanti con il portiere, con dal Cing e le conferme anche di testa che sono prodotti del vivario e quindi sono un doppio orgoglio per la Sandro Abbate. Siamo al lavoro già per, diciamo, abbiamo individuato dei profili che andremo a chiudere nelle settimane successive. Grazie.